Allora parla Antonio Spica che si presenta, dice chi è, da dove viene, cosa fa e soprattutto cosa vorrebbe, non cosa vuole, cosa vorrebbe. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Devo dire che non è facile prendere la parola dopo un intervento conciutorevole del professor Botti e permettetemi di ringraziarlo personalmente per le tante volte a cui lui mi sono rivolto per avere chiarimenti su ciò che è successo nella nostra area creativa. E caro Enzo, volevo rassicurarti che continuerò a disordarti, se posso così dire, sino a quando in questa zona non emergerà la verità su ciò che è successo. Sì, chiedo scusa. Sono Antonio Spica, sono consigliere comunale a Pastiglia, provincia di Modena, comune dell'area Cratera del 2012, Simpico, di alluvionale del 2014, colpita in pieno dall'alluvione della rottura dell'argine del funne secchia, dove lì hanno voluto addossare la colpa alle lunghe del mare. In realtà non è così e vi dirò anche il perché. Per cercare di restare nei tempi di leggere un documento scritto da me personalmente e che racchiude un po' tutto quello che ho fatto in questi anni e che si è concluso in un primo momento con il deposito per cui è messo tutto nello sud bianco, in un composto esposto di diversi allegati che non hanno alcun riferimento politico, non hanno alcuna fonte politica, ma sono fonti da parte della scienza libera. Il documento risposto che è stato depositato all'inizio in quattro procura della Repubblica, Modena, Ferrara, Peggio Emilia e Roma, e poi per fatti inerenti nella Basilica, per poi cercare di dirvi il perché, è stato depositato anche presso la procura della Repubblica, presso il Tribunale di Potenza. Sei anni fa, quel tragico maggio, quando per sempre le nostre vite, che più che meno siamo stati coinvolti, ma sono sei anni in cui tutta la politica, nel ricordare quel periodo, dibatte sui numeri, cifre della ricostruzione, su ciò che è stato ricostruito e su quanto ancora deve essere fatto, contro gli distanziati, quanto effettivamente è stato rogato, quella zona franco-urbana concessa per l'area del 2012 e del 2014, con 20 milioni, con una concessione della tutta zona franco-urbana, con 20 milioni di euro concessi a piccole e mediche imprese, lasciando fuori molti comparti, a fronte di 6 miliardi di euro in imposte versate dal territorio, che sino a quel maggio, aveva detto, del 2012, produceva circa il 2% del prodotto interno all'orgo, pari a 20 miliardi di euro, percentuale quindi pari a un 3 per 1.000, che rappresentano il prodotto l'orgo, mentre invece il nostro territorio chiedeva, gran cosa, la no-taxare che avrebbe per noi consentito un'effettiva e migliore ripresa economica per imprese private e cittadini. Ricordando che dopo sei mesi dal Sisma, al dicembre 2012, le imprese dovrebbero contrarre, addirittura mutuo, per pagare le imposte. Molte imprese hanno colocalizzato, tante hanno chiuso definitivamente le imposte, qui si continuano a pagare come se nulla fosse mai successo. È da chiarire meglio anche questo aspetto della no-taxare che mentre noi la chiedevamo, mentre ci dicevano che l'Europa non la può concedere, presso la Camera di Commercio di Ferrara nel 2014, un esponente del Centro Democratico Modenese, in conferenza stampa, insieme a dei rappresentanti del Ministro Polacco, invitava vergognosamente a delocalizzare le imprese dell'area Criteria in Polonia, dove lì invece avevano già risposto una zona no-taxare. Scusate. Grazie a tutti. Grazie. Sono bomba le scherzi. Sei anni quindi di polemiche, critiche e simili della ricostruzione. Sei anni però in cui tutta la politica, pur essendo stata personalmente dalle informate, quando dico tutta e tutta, si è guardata bene dall'affrontare le responsabilità e le omissioni gravi, chi avrebbe però potuto e dovuto evitare le vittime del 20 e del 29 maggio 2012. Quindi scusa con questo e sarò ripetitivo su quello che ha detto prima di me il professor Boschi, ma cerchiamo di approfondire meglio la questione perché il concetto è orribile e di competenza. Se si considera che l'Italia è presa il maggior rischio sismico e vulcanico del Mediterraneo, bisogna anche comprendere che dura da digerire. Con i tarivotti bisogna imparare a convivere, ma occorre anche comprendere ed essere consapevoli che gli edifici non crollano per effetto di tutta remoto, ma essi crollano perché costruiti male. Come ha detto prima di me il professor Boschi, nel 2003 fu appunto pubblicata in casetto ufficiale una mappatura sui rischi o sismico dell'interno nazionale, ma quel documento che sostanzialmente chiedeva di mangiare la sicurezza in alcuni territori riducendola alla vulnerabilità simica, venne prima sottovalutata per poi essere ignorato del tutto. In quel documento, fra i vari trattori della promessa dell'appunto, si poneva l'attenzione anche nei comuni della nostra area poli colpita nel 2012. In una recente risposta al mio ennesimo accesso atti, presso la commissione Grandi Rischi, accesso atti che ho privato, anzi, nelle scuole di questo accesso atti sono stato aiutato preziosamente all'avvocato Giardina, qui presente, e la risposta viene a firma del capo dipartimento nazionale di protezione civile, vengono affermate diverse cose molto importanti, fra queste, vi prego di prestare la massima attenzione, non risultano, quindi viene ufficializzato il fatto che non risultano verbali della commissione Grandi Rischi dal 29 maggio 2012. Siccome era invece doveroso che la commissione stessa si riunisse, quindi aveva il dovere ne chiedesse alla contribuzione. Per quanto invece può riguardare la vulnerabilità sul rischio simbico, si legge nel documento, il percorso di aggiornamento della pericolosità e delle norme sismiche per le costruzioni è stato avviato dall'ordinanza di protezione civile nel 2003, quindi nove anni prima del terremoto. Ma quel qualcuno, si legge nel documento, la Regione Emilia, ignora. Va rilevato che la consistenza dei danni del patrimonio di lì, sono in parte da attribuire ai ritardi con cui tali aggiornamenti sono stati applicati e percepiti in documenti normativi d'oggenti ed in particolare. Uno, il ritardo nell'adozione in maniera concente della nuova classificazione sismica, mantenendo così, ad esempio, che venissero ancora realizzate, dopo tale data, quindi nel 2003, costruzioni tra cui notti capandoni industriali senza considerare gli effetti sismici. Rimane attuale la raccomandazione già fatta il 28 gennaio 2012, sei mesi prima. A proposito di questa vulnerabilità sismica, nel documento di risposta a questo accesso infatti viene scritto dal Capo di Parlamento Nazionale di Protezione Civile, che si sono accorti dopo che i capandoni crollati non erano, non avevano, se vi ricordate bene, le travi indurbanate. Allora qui bisogna che ci chiedessimo tutti, e sarebbe opportuno che qualcuno ci desse una risposta, se nel 2003, se già il 28 gennaio 2012, e poi vi dirò il perché, ci fossero state le verifiche sulla vulnerabilità sismica di tutti gli edifici, forse si sarebbero accorti che quelle travi non erano nullonate, e presto si poteva subito intervenire. Non sarebbero crollati i capandoni, sicuramente non ci sarebbero state le vittime, anche perché in una intervista che ho ascoltato di un famoso architetto, questo architetto sostiene che nel giro di poche ore o giorni, di qualche giorno, possono essere messi in sicurezza gli edifici. Allora mi chiedo, quanti edifici si potevano mettere in sicurezza dal 2003, quanti edifici potevano essere messi in sicurezza dal gennaio 2012 e entreranno poi in merito. Si legge anche l'osservazione che la sequenza sismica, in particolare il 25.9 del maggio 2012, ha dato luogo a vistosi fenomeni di diputazione dei terreni, che in alcuni casi hanno convolto anche le fondazioni di edifici industriali per le civili abitazioni e gli argini fluviali. Quindi, in questa risposta degli accessoriati, viene già sostanzialmente detto all'indomani del terremoto, che della liquefazione dei terreni avevano coinvolto anche gli argini. La faccio breve perché ci sarebbero molte altre cose da leggervi su questo accesso a arti. Sostanzialmente però è da comprendere che nell'accesso ai arti, quando chiedo di avere le comunicazioni intercorse con le regioni della Tempola Padana, loro mi rispondono che il documento è stato inviato alla regione, continuati con la Tempola Padana, per cui Romagna, Lombardia, Veneto. Per quanto attiene a Emilia Romagna, non sono in possesso di alcun documento di riscontro da parte della regione. Ecco perché, quando qualcuno da Bastigna mi chiede, ma tutti occupi poco dell'alluvione e moltissimo del terremoto. Non è vero, perché anche sull'alluvione, a parte tantissime denunce a mezzo stampa, interrogazioni in Consiglio Comunale, è anche lì un esposto sull'alluvione, inviato le stesse procure, dico anche che l'alluvione è anche figlia, oltre dell'attività umana, nel senso della carenza di manutenzione ordinaria con quegli argini, ma anche figlia purtroppo di quel terremoto e di quei verbali che qualcuno ignora. Allora, è necessario capire se l'allora governatore in regione Emilia Romagna, oggi senatore Vaspervani, l'assessore regionale alle attività produttive, oggi sindaco di Mondale e presidente della provincia di Sarelli, l'allora come oggi assessore regionale al direttore Paola Gazzolo, dovrebbe sapere qualcosa da dirci. E a proposito dell'assessore Paola Gazzolo, mi permetto di farvi notare, scusate, una vicenda a mio dire assai strana. Trovate in rete, ancora su internet, una lettera, protocollo PG 2014, 028, 015, 01, agosto 2014, dove di fatto l'assessore Gazzolo chiede ai ricercatori tutti, nel caso di anomali casi, anomali per esempio riscaldamento dei pozzi, se ricordiamo anomali, anomali morire di pesce, lungo i canali, eccetera, di comunicare solo ed esclusivamente direttamente alla regione. Quindi non devono essere divulgate queste notizie, qui c'è la lettera di Gazzolo per chi la volesse leggere. A mio avviso questo va a cozzare, oltre che con la Costituzione della Repubblica, con quanto è successo recentemente in Basilicato, dove una geologa, la professoressa Albina Colella, fu querevata, per motivi simili, dal colosso Eni. Finalmente si è arrivata, addirittura fu querevata per la cifra modica di 5 milioni di euro, ma la professoressa Colella non si è arrese, giustamente andò avanti, e nella sentenza del Tribunale della Basilicata, che di fatto, tra virgolette, assolve Albina Colella, ma condanta Eni, si dice, non vi è dubbio, parole scritte sulla sentenza, non vi è dubbio che la divulgazione dei risultati della ricerca costituisca legittima espressione del diritto di libertà, di manifestazione del pensiero, sancito dall'articolo 21 della Costituzione e di libertà della scienza garantito dall'articolo 33 della Costituzione, senza limiti e condizioni. Questo si legge dalla sentenza del Tribunale. Allora vi chiedo, consentitemi la battuta, se l'Emilia Romagna fa ancora parte di questa Repubblica Italiana, ci siamo fermati, perché l'Ambicato, tantissimi anni fa. E anche qui bisogna anche comprendere per quale motivo ci sono ricercatori, anche presso PNGV, che io stimo moltissimo, di cui mi fido ciecamente, che studiano da anni queste problematiche, che hanno fatto diverse volte nel nostro territorio campionature su anomali riscaldamenti dei posti, ricordate il famoso posto di Camorana, 53 gradi. Eppure avendo fatto pubblicazioni a livello internazionale, poi vengono, non vengono invitati loro a parlare ai cittadini, ma vengono invitati a parlare ai personaggi, non faccio nomi, tale Nicol Todesco, e non mi risulta abbia delle pubblicazioni particolari su questi fenomeni. Perché non vogliono lasciare pieno azione a persone che lavorano, che studiano, che hanno diverse pubblicazioni a livello internazionale sul tema e che io stimo moltissimo e fra queste mi permetto di citarne una, la professoressa Tietora Quattrocchi. Come ho già detto in un precedente incontro sull'etica del sottosuolo a Ravenna a cui ho partecipato, però dal cittadino, vorrei che qualcuno a Roma, mi riferisco al presidente attuale dell'IMGP, Cato Guglioni, sapesse che io e molti di noi qui sul territorio ci fidiamo solo ed esclusivamente della professoressa Tietora Quattrocchi. Cerco di concludere brevemente. Occorre fare un saldo indietro di tre anni, quando prima il professore Quattrocchi parlava della Commissione Grandi Rischi. Tre anni prima del 2012, ce lo ricorderemo tutti, il terremoto che toglie la città dell'Aquila, appunto nel 2009. Prima di quell'evento la Commissione Grandi Rischi si riunì. Il professor Quattrocchi ne era mentore. A quella, è demise un verbale, a quella riunione, se non ricordo male, anzi non me lo ricordo male sicuramente, rappresenta il sindaco dell'Aquila, non si è affatto soddisfatto da quella riunione, tanto che dopo la riunione chiese d'ottenne lo stato di emergenza. Poi ci fu il terremoto, sappiamo tutti quello che è successo. Quella Commissione Grandi Rischi andò vergognosamente sotto processo. Ben due processi, uno è un pediatrico, perché noi in Italia siamo in Italia prima del tribunale a giudicarci, ma quello coesistenze subito chiarendo pieni ciò che era avvenuto. E l'altro invece è il giudiziario. Quello giudiziario si è concluso, un giro di qualche anno, con la giusta assoluzione di tutti quei componenti, assoluzione totale al 100%, tranne di un membro, un tale Bernardo Bernalpini, se mi so per fare una mia condizione, ci parte di questo per capire il motivo del perché, l'esposto di cui parlavo prima, che per ben due mandati consenziuti, non avendo scontato gli effetti di quella condanna, ha comunque continuato a presiedere l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale. Un carico così dimesso, non per effetto di quella condanna, è questo che bisogna comprendere, ma per scadenza del secondo mandato triennale, così come prevedeva l'ostituto dell'ISPRA. Allora non si credeva, non si credeva, per l'Aquila si riunisce la commissione ai grandi rischi, va sotto processo e quindi viene sciolta, in Emilia non solo la commissione ai grandi rischi non si riunisce, ma ancora qui, dal 29 maggio, e ancora qui non si è avverto un vero e proprio caso sulla commissione ai grandi rischi, del perché non solo non si è riunita, nel nome del dovere, e nessuno ne chiese la convocazione. Aveva il dovere, come giustamente, anche aveva detto il professor, posti che si riunisse la commissione ai grandi rischi dopo il 20 maggio perché la scienza, non lo dice spica, non lo dice nessun altro, lo dice la scienza e lo dimostra, i terremoti in Italia vengono sempre accolpiuti. Si può vedere storicamente il terremoto di Messina, Belice, Friuli, Lancia, Irpinia, l'abbiamo visto recentemente anche in centro Italia, agosto, ottobre 2016, l'Italia dell'Emilia Romagna era forse una, ma no. Quando il 20 maggio scoppia, arriva la prima scossa, ovviamente tutti si chiedono come mai non era possibile che in pianura padana, eccetera, eccetera, avvenisse un terremoto e si andò con la prima bocca a cercare terremoti il 20 maggio, il 500, il 1600, eccetera, ma si dimenticarono appunto di controllare quel verbale del 28 gennaio 2012 dove appunto la commissione ai grandi rischi allertava quelle regioni, come ho detto prima, dalla pianura padana per un probabile, imminente, probabile terremoto, per cui è vero che i terremoti non si possono prevedere a lungo termine, ma è anche vero che comunque, poiché c'era già una sismicità regressa nell'anno precedente, tutto faceva pensare che quella allarme fu ignorato. Non si capisce poi perché la commissione, è stato detto prima, si riunisce a sequenza sismica praticamente ultimata nei primi di giugno per lanciare un'allarme sul terzo segmento sede ferrarese che poi non avviene, quindi per fortuna. Si è ruotato attivamente, quindi circa un anno dopo, quando Vasco Errani istituì la commissione chiese, qui vorrei anche capire chi e perché chiese a Vasco Errani di istituire questa commissione chiese, per quittà giustizia, ma vorrei anche sapere eventualmente quanto è chiesto a Vasco Errani di istituire quella commissione chiese, perché mi sembra assurdo che il terremoto del 2012 la commissione chiese viene convocata con grande ritardo. Sostanzialmente viene chiesto due aspetti alla commissione chiese, se l'area cavone avesse voluto in futuro innescare la sequenza sismica e se il famigerato famosissimo del deposito gas di Rivara avesse possibile innescare il terremoto eccetera eccetera. I risultati delle chiese arrivano a noi non subito, a conclusione del lavoro, arrivano anche questi dopo qualche tempo e non arrivano perché la pregione è scelto unico, arrivano semplicemente perché un giornalista statunitense, dicono male Carvai, cosa di simile, ripubblica su una rivista scientifica americana e poi verranno prodotti in italiano. Sostanzialmente però l'ichese dice non si può escludere che la trivellazione, la coltivazione dell'orcarburi all'area cavone avesse, possa avere generato il terremoto eccetera. Ovviamente dice no, non è possibile che Rivara abbia provocato il terremoto perché Rivara era di fatto inesistente, quando in tutti noi è stata inculcata l'idea che arrivava ad essere lavorato, trivellato e chissà quanto. Invece era soltanto un progetto, un progetto cartaceo. Recentemente c'è stata anche una sentenza del Tav che pone definitivamente fine al discorso Rivara e nella stessa sentenza del Tav, recentissima, si legge che da almeno 20 o 30 anni a Rivara non è stata condotta alcuna attività di studio se non solamente un discorso di progetto cartaceo. Allora qui bisognerebbe che ci chiedessimo tutti per quale motivo fu tirato in ballo Rivara inesistente e non viene tirato in ballo ad esempio, ma non vengono mai tirati in ballo in altri eventi sindici, ma anche il centro di stoccaggio a Minervi, che in risultato come ho anche detto prima, il professor Poschi è uno dei più importanti, grossi a livello europeo e in Italia è il centro nevralgico dove arrivano tutte le condutture della colpa di gas in maniera molto povere. Addirittura non è stato neanche tirato in ballo Salvi Occello che è vista appena a 18 chilometri da Ferrara, per cui perché andare a disturbare un deposito di gas inesistente, invece poi ce ne sono tanti altri inesistenti, però attenzione che sia chiave perché non vuole quello che succedesse, che successe al Poschi, ma ovviamente nessuno si preoccupa di Antonio Spica, di fare dei copi in colla su quello che dico, io non dico di partire se il deposito o le frivellazioni sono, innescano o non innescano eccetera, dico però e me ne assumo la responsabilità, poiché io ho una netta sensazione, e questo non ho risposto allo scritto, quindi non dico niente di nuovo, che con la Commissione Chiesa si è voluto provare a creare un ambito su misura a qualcuno, chiamato abito, e che quest'abito stia stretto, e poiché determinati studi di queste problematiche non vengono affidati a persone esperte e competenti, ricordando che nella Commissione Chiesa, ci fu un funzionario del Mise, se non riformale, che parlò di corruzione, sì, parlò di speculazione, non trovo il termine, in quella Commissione, le procure avrebbero il dovere, quantomeno, di chiamare questo personaggio, menzionato nell'esposto, e farsi spiegare chi, come, perché, e quando, dove, eccetera, speculò di quella Commissione. Allora, fino a quando il tutto non viene messo in chiaro, probabilmente è meglio bloccare tutto, poi lo so che ci rimette il cittadino e le foto energetiche e quant'altro, ma di fronte a tali situazioni forse è meglio fermarsi. A maggior ragione è quando si scopre che gli esiti della Commissione Chiesa, cercate in Chiesa, cercheranno di essere smentiti, smontati, da ricercatori ben cani, e poi pare che quei ricercatori avessero fatto consulente per lei. Allora non vorrei che nel classico sistema all'italiano, dove controllato e controllore, coincidono spesso con la stessa persona, dico, signore Fermiano, accennatica. Concludo veramente, che sia ben chiaro, io non ho interessi di alcuna natura da difendere qua in Italia, né in Italia, né in Italia, non devo assolutamente fare carriera politica, perché se la sinistra, per me lo stanno che poi qui la politica c'entra niente, perché tutto quello che è stato scritto sono soltanto i 12 centipi. Se la sinistra non mi ama, non mi ama sicuramente il centro-destra, perché in questa battaglia, e qui lo voglio dire, mi ha isolato, ma io continuerò a battermi, perché queste verità vengono fuori. Quando allora, prima di presentare l'esposto, e tuttora quando ne parlo, e continuerò a farlo, visto i recenti accessi atti, qualcuno mi chiedeva, e non lo chiede ancora, ma perché lo fai? La risposta è una sola. Essendo reginario di Palermo, e avendoli conosciuti, proprio curiosamente, credo che Giovanni Macone e Paolo Bonserrino non sono molti in pane, e allora questo territorio, e a maggior ragione le proprie vittime, che il mondo ha creato, merita la giustizia. Merita la giustizia.